Questa invece ragazzi è la mia idea di Gullit, un giocatore comunque totale che sa fare veramente tutto, ha anche delle buone capacità difensive perché come potete vedere tra le varie posizioni può ricoprire anche il DC, sicuramente la carta a differenza del regista creativo è molto più utilizzabile, possiamo portare l'accelerazione a una velocità molto molto elevata, abbiamo anche una buona velocità con una buona resistenza, peccato non arriverà ad 80 però secondo me la carta così è già più che performante.